Le Antiquitates rerum homenarum et divinarum L'Antiquitates rerum homenarum et divinarum è una raccolta di volumi, esattamente 41 libri, composta dall'autore Marco Terenzio Varrone intorno al I secolo a. C. L'Antiquitates rerum homenarum et divinarum si divideva in due parti, la prima dedicata alle antichità profane, Libri 1 25, Res Umena, punto e virgola la seconda parte dedicata alle antichità sacre, Libri 26 41, Res Divina e Antiquitates Varrone l'opera Le Antiquitates rerum homenarum et divinarum è soprattutto una storia di costumi, di istituzioni, e anche di mentalità, è la storia collettiva del popolo romano, sentito come un organismo unitario in evoluzione. Marco Terenzio Varrone riscriverva la storia dei popoli e dei costumi antichi e tracciava un quadro completo delle antichità sacre, Res Umena e Varrone le antichità umane, Res Umena e, erano divisi con ogni probabilità in quattro sezioni, a loro volta e composte da sei libri. I libri trattavano gli uomini, i luoghi, i tempi, le cose. Le Res Umena e ebbero successo presso i contemporanei che vedevano, per la prima volta, fissati con autorevolezza alcuni punti fermi delle origini di Roma. Cicerone tesse un'esaltante lode dell'opera e lo stesso Virgilio, che già per le georgiche doveva molto al De Re Rustica, utilizzò certamente le Antiquitates per costituire la leggenda delle Neide. Res Divinae Varrone Le prime quattro sezioni delle Res Divinae, trattavano delle cerimonie religiose celebrate dagli uomini, in luoghi e in tempi prestabiliti. Nelle Res Divinae Marco Terenzio Varrone distingueva tre modi di concepire la divinità una teologia favolosa, contenente i racconti della mitologia e i loro rifacimenti ad opera dei poeti, una teologia naturale, l'insieme delle teorie dei filosofi sulla divinità. La teologia naturale deve restare possesso esclusivo degli intellettuali della classe dirigente, perché, se diffusa fra il popolo, potrebbe indebolire il concetto di santità delle istituzioni statali, infine la teologia civile che concepisce la divinità nel rispetto di un'esigenza politica, ed è pertanto utile allo stato. Varrone letteratura latina Marco Terenzio Varrone riprendeva dalla teologia stoica tale sistemazione della religione, ma la piegava alla necessità politica contingente di conservare il patrimonio culturale della religione romana, anche senza accettarne il credo. La storia, come è concepita nelle Antiquitates e nel De Vita Popula ai Romani, è soprattutto storia di costumi, di istituzioni, di mentalità. È la storia collettiva del popolo romano considerato un organismo unitario in evoluzione. Varrone Imagins Varrone, però, si dedicò anche a ricerche biografiche, oltre a brevi biografie di poeti romani, compose una raccolta di Imagins, antologia di 700 ritratti di uomini famosi di ogni categoria, sia romani che greci, statisti, poeti e filosofi, ma anche danzatori e sacerdoti, accompagnati ciascuno da un epigramma che caratterizzava il personaggio. È possibile che al testo poetico si affiancassero eruditi commenti in prosa. Varrone rivoluzionò la tradizione delle Imagins degli Antenati. Grazie alla sua opera, le Imagins cessarono di essere il privilegio di una ristretta aristocrazia. Infatti, greci e romani distintisi, in qualsiasi attività nobile vi avevano ugualmente diritto. Grazie a tutti.